Jacopo Pastorius è stato l'uomo che ha rivoluzionato il modo di suonare il basso, è stato un genio assoluto, riconosciuto da tutti come un innovatore, un poeta del suo strumento. Ha una grandissima genialità, non ha corrisposto nella vita a un autocontrollo, aveva un disturbo bipolare e quindi ha avuto una vita molto difficile, dura che noi abbiamo raccontato, una vita con un finale tragicamente epico, viene ammazzato durante una sua notte di disagio urbano. Per cui comunque è una storia che vale la pena conoscere perché tutti i dischi nei quali ha suonato Jacopo Pastorius portano indelebile una traccia della sua anima.